Però che cazzo è successo, Fredda? Perché allora, ti dico la verità, io non avevo seguito, no? Io sono tonto, io stavo là, non ho seguito, cioè non ho percepito nulla, no? Però facendo la mia ricerca, Fredda e Palma interviste, no? Perché ovviamente devo studiare, è uscita questa cosa, ho detto ma che è successo? No, ma guarda, in realtà, cioè, non è stata una roba contro di lui direttamente, io ho difeso... Il tuo genere? La mia roba, capito? Cioè nel senso io non l'avrei mai attaccato senza motivo, io ho semplicemente difeso... Ma lì sei attaccato al muro? No, 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 nel senso, cioè, è una roba che secondo me era giusta, nel senso, se io vengo attaccato da chiunque, cioè io non ho paura di nessuno, capito? Tanto meno, cioè, capito, fatti voglio dire, tutto il rispetto del mondo, cazzo, veramente, l'ho detto già mille volte. Ok, ah, quindi è una cosa vecchia, io penso fosse una cosa super ricerca. No, beh, è nuova, però me l'hanno chiesto in 200, quindi ho dovuto già... Oh, scusa, oh, scusa, non lo sapevo, non lo sapevo. No, ma è comprensibile comunque. È vero, lo sapevo, però mi serviva il contenuto. Certo. Pugnetto.